4 agosto del 2023, siamo notati, oggi è sempre, i santissimi nomi di Gesù Giuseppe e Maria. C'è un grande santo, parroco, San Giovanni Maria e Vianney, curato d'As. Qualcuno scherzando diceva che c'è l'unico parroco santo, ma non è vero, ci sono stati altri parroci santi. E' nato a Dardilli, a Timbrancia, nel 1786 e morto ad As nel 1859. Fu ordinato al sacerdote con l'aiuto di un parroco e la raccomandazione potente, anche con l'istruzione che gli ha dato, tanto che poi divenne il suo vice parroco. Dopo questo tirocinio, riconoscendolo, siamo ignoranti, un prete, da poco, fu mandato in un paesino sperduto dalla Francia, As, in una parroccia di 300 anime. Non si abilì, non si scoraggiò. Il mese di ranzia al Santissimo Sacramento, digiunando e pregando. Il rosario, c'è della Madonna, e Gesù sacramentato, tanto che i parrocchiani, non vedendolo per alcuni giorni, cominciarono a preoccuparsi. E con questa occasione, cominciarono a conoscerli. Tanto che lo conoscono, però, che i 300 fedeli diventarono veramente fedeli. E come era assiduo al confessionale, e semplice nelle catechesi, rese famoso il paesino in tutta la Francia e anche fuori dalla Francia. che venivano a trovare da lontano, credenti e non credenti, e venivano convertiti. Si vede nei ritratti che ci hanno tramandato, che il digiuno l'ha ridotto a quasi uno scheletro. E poi, nonostante l'inferma salute, ha ottenuto miracoli. E ha cacciato il demonio, che lo chiamava Grappino. È un grande santo. Ed è il patrono dei parrocchi. Il Vangelo è di San Matteo, capitolo 13, versetti 54-58. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinacoga. E la gente rimaneva stupita e diceva, da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costruito il figlio del fallegname. E la sua madre non si chiama Maria. E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, e le sue sorelle, non stanno tutte tra di noi. Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro un motivo di scandalo. Ma Gesù disse a loro, Un profeta non è disprezzato se non la sua patria è in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non vece molti prodigio. Parola del Signore. Lode a Dio e a Cristo. È vero quello che dice Gesù. Nessun profeta è accetto. Nella propria patria è tra i suoi. Poi in altra parte del Vangelo addirittura Gesù dice che i nemici dell'uomo sono proprio i parenti. Ora, ma anche se è vero, è deplorevole l'atteggiamento dei suoi paesani. perché anche se lo conoscevano come un operaio, sapevano dei prodigi e della saggezza. Tante queste meraviglie. Siccome non erano andate nemmeno a scuola, sa tutte queste cose, quindi già capivano la sua importanza. Ma lo hanno rifiutato e Gesù era andato altrove. Come se gli ebei hanno rifiutato Gesù. Gli apostoli mandati da Gesù sono andati altrove. Perché la parola di Dio deve essere conosciuta ed è potente ed efficace non ha confini e nemmeno fallimenti. Detto questo cerchiamo con tutte le orecchie aperte di ascoltare la parola di Dio non rifiutarla e metterla in pratica. Amen. La parola di Dio non è legata. L'ultima parola parlava degli altri degli apostoli. San Paolo è prigioniero e riceveva gente per annunciare Gesù morto e risolto. Vivo. La parola di Dio non è legata. È inarrestabile la parola di Dio. C'è anche un'altra frase della Sagra Scittura dice Signora la mia parola è come la pioggia non donna a me senza aver dato il suo frutto. Sta a noi annunciare e riceverla. Signore sia con voi. Signore che vi custodisco e vi proteggo. Signore faccieli splendere se vuoi stavolta e vi dia la sua misericordia. Signore porti il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio ripotente Padre Figlio Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Specialmente per il sofferente che la parola di Dio sia efficace. Un aiuto potentissimo di Maria Santissima vicino degli Apostoli e tutti i santi e gli angeli con la caposa mia e al canto scambile di San Raffaele pace e bene pace e gioia.